Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video, oggi siamo sul sesto, no, sul quarto episodio della Hardcore Minecraft Comunque, cosa è successo? Sono uscito dalla caverna, ho registrato una clip di circa due minuti in cui prendevo il cibo, facevo i miei ragionamenti sul fatto che siamo spacciati perché ho pochissimo cibo mi sono craftato l'armatura e i secchi con il ferro e sto mettendo a cuocere della stone perché oggi iniziamo a costruire o a lavoricchiare un po' sulla nostra casa, quello che sarà la nostra casa e su quello che sarà un po' questo sottospecie di villaggio, perché villaggio? Isola villaggio, roba varia voglio costruire due torri degli arcieri, una qua e una di qua, esatto, per vedere un po' che cosa succede poi magari collegheremo il tutto, no? Cioè ti fai strutture, 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 poi ti colleghi tutto e viene qualcosa di figo secondo me ma sicuramente, sicuramente verrà qualcosa di figo ora io non devo saltellare e me l'avete detto tutti i colori sul fatto che io saltello e cazzeggio vado, cioè faccio cazzate nel senso saltello, corro, non devo farlo, cioè non devo correre, non devo saltellare ma purtroppo è un'abitudine che io ho in minecraftita e che se non me la tolgo è problematico ora, dobbiamo uccidere i maiali, però cazzo io non voglio uccidere dei maiali ma lo sapete perché? Perché Cristo, mi serviranno zucche, molto buono zucche, molto molto buono non che siano commestibili, però fa sempre piacere trovare delle zucche perché sono un item molto raro e quindi è buono averne in una stagione sì sì sì, è molto 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 buono, molto buono, molto buono, molto buono allora on dance vorrei semplicemente trovare qualcosina vediamo, 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 vediamo qualcuno mi ha detto di non costruire su sta serie ma perché cazzo è una serie di minecraft, di minecraft bisogna costruire se no che senso ha, cioè giochi a minecraft per costruire non per sopravvivere anche se è hardcore, fotte sega legolas vedi qualcosa? no, con i tuoi occhi da elfo non vedo, assine le mucche oddio, 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 oddio zitti mucche mucche significano pelle, mucche significano salvezza mucche significano tante cose ci serve del grano, forza ragazzi a scavare semi abbiamo due semi no, poi a casa ne ho qualcun altro dobbiamo farci una piantagioncina piantagione che però vedete anche lì noi dobbiamo giustrarci bene le risorse e lo spazio perché cazzo non abbiamo tanto spazio ho pochissimo cibo sono messo malissimo vi giuro sono davvero messo male ci sono dei pig là ah, un paio li ammazziamo uno, 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 uno uno, uno, lo uccido ma ce ne sono più di uno quindi l'idea sarà adesso massacrare i maiali prendere un po' di roba ma sapete perché? perché ci serve? no, ti prego non mi fuggire dove c'è? volo sei vieni qua ok, sarà quello? ma che ne so io meraviglioso bistecche due bistecche non dobbiamo morire di fame cioè se moriamo è inutile tutto ciò quindi un altro c'è qua perché non lo prendo? oh morto male cinque buono cinque bistecche vanno più che bene prendiamo anche quelle di quest'altro sei cioè sei sprecato oh voglia una sola ma va bene così va bene così poi dobbiamo fare dei pistoni dobbiamo adesso pensare un po' a casa perché oggettivamente spaccare sempre un blocco per salire rompe e dà decisamente fastidio quindi mettiamo a cuocere prendiamo sta stone e mettiamo a cuocere fa un culo questo coso qua qui posiamo tutto posiamo tutto posa posa tutto prendiamo anche questo sotto abbiamo 47 pezzi già ci possiamo fare qualche stone brick poi ci facciamo intanto che si cuociono ecco mangiamo una pork chop la prima e ci recuperiamo un po' di vita il che è già buono il già è molto buono cobblestone vi l'oro fotte sega oak wood e ci andiamo a fare adesso mi vado a creare che mi vado a creare ah ho del grano per portarmi a casa le mucche ma questo sarà di un altro episodio ci facciamo qualche pistoncino ferro 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 non ho del ferro ecco qua 61 pezzi di ferro molto buono pistoni e varia roba perché adesso dobbiamo lavorarci un po' bene nell'attesa che si che finisca la il coso si il coso ah ma qui non c'è ah qui possono salire mob ah no 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 scherzavo qua non possono farlo l'entrata l'entrata la possiamo far qui 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 facciamo l'entrata ok allora se io sto così che succede niente però se io già metto questo così e questo così posso entrare ma se io li alzo non posso farlo più è giusto è corretto it's correct it's correct oppure potevo fare anche un'altra cosa più figa ma no così è figo senti ma mi gasa mi gasa mi gasa mi piace mi piace mi piace redstone ci servono dei repeater i repeater si fanno con le torcine di redstone quindi iniziamo a fare anche questo così facciamo più qualche torcina di redstone questo è un episodio proprio da sfruttare così un repeater possiamo farci ma va bene un repeater no due cose servono e qui è mezzo redstone ecco qua il nostro primo repeater un repeater è basta andiamo a risparmio stavolta allora solitamente non vado mai a risparmio quando faccio costruzioni però qui è più particolare siamo a livelli particolari quindi tac e poi ci mettiamo questo tac bene fai così e poi fai così meraviglioso l'impulso dovrebbe passare lo stesso ti fai qui e qua sopra se non sbaglio puoi metterci una bellissima leva esatto 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 così no la mettiamo però più bellina magari su un coso del genere bam perfetto ok qua ci andrà la terra ovviamente terra qua io posso metterci qui della terra qui raccogliere il tutto qui ci mettiamo una torcina qua la mettiamo terra e terra terra perfetto qua io non posso salire non posso fare nulla poi arrivo qua tiro la leva salgo e bam perfetto e i mob non salgono anche se sarebbe il caso di metterci un bottoncino in modo tale che un bottone dove lo mettiamo tipo qui un bottone perché arrivi sempre alla leva no vabbè ok ci si arriva bene sì 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 ci si arriva benissimo Quindi posa tutto e va bene, questo l'abbiamo fatto. Ora ci concentriamo invece sulla creation, sulla creazione della nostra... dammi questo, perfetto. Facciamo qualche slab, tipo questi, tac, e poi questo coso qua. Va bene? Iniziamo a creare la nostra torre, la prima torre di guardia che andremo a fare. Eccoci qua, qui leviamo il... no, voglio farla di là perché mi piaceva più lo spiazzo. Leva tutte le torce. Bene, ho fatto la base, ora ho preso degli stone brick slab e li mettiamo qua così perché non facciamo male a nessuno. Eccoli, uno, due, tre, pari, perfetto, meraviglioso. Ora questa è la prima parte, ok? Prima parte. Ora, uno, qui adesso saliamo tanto, 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 non devo prendere danno, non devo prendere danno, cazzo, è vero, io non ho questa pustice, non devo prendere per niente danno. Ah, poi questi li uniamo così, qui pure, torniamo a mettere giù qualcosina, ecco qua. Ah, è vero, io non ho la possibilità, giusto, 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 dimenticavo di farmi uno scudo. Eh, forse è basso, forse è bassino, forse è bassino, dobbiamo farla un po' più alta. Magari andiamo a scala, nel senso, mettiamo uno qui, uno qui, uno qui, così. Ah, posso farlo anche così, non è che me lo viata nessuno, anzi, 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 è pure preferibile magari, questo leviamolo. E adesso me la tiro su tutta uguale. Lavoro finito per la prima torre, ho iniziato un'altra, qui, proprio ci sta molto bene qua. Eh, quella la sto tirando su e questa è finita, questa è la torre, la prima torre che ho completato, molto, molto figa, bella, 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 bella. Ahia, eh, insomma, è figa, è figa, 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 figa. Qua, cioè, ci sta bene, ci sta bene, però non abbiamo finito, cioè, è molto figa. Però si deve assomigliare alla torre di Clash of Clans, cosa che, cioè, non gli rende tanto l'idea, un po', un po', sì, perché alla fine è carina come torretta, cioè, oggetti, ho il zinghiozzo, cioè, ne cazzo non ho, va bene, va bene, lasciamo perdere, dai. Eh, in tutti i casi, cioè, è, è carina, è discreta, è discretamente carina, un discretamente carina me lo, me lo merito, discretamente carina me lo merito. Giù di foglie, via, mi serve il verde, eh, mi serve il verde, allora è giù di foglie, no? Per forza, per forza di cose dobbiamo fare, ok, va bene, quante ne ho raccolte, un bello stacchino, uno stacchino poderoso, mi piace. Ora, prendiamo anche del legno perché ne ho consumato oggettivamente tanto per fare sta roba, ehm, sì, va bene, va bene così, adesso come mettiamo il tutto? Allora, riapriamo un attimo la leva, cazzo, eh, vedi, vedi, questo è un piccolo problema, che però, vabbè, è risolvibilissimo, eh, non è che è un, cioè, poi si fa, tutto si fa. Allora, allora, on dance faremo una cosa del genere, tipo così, 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 sopra, così, così, così e così. Ah, sì, ma giusto per dare un tocco di verde, che dovrebbe sembrare uno standardo, ecco, una cosa del genere, una roba così, e poi mi dite a voi che cosa sembra. Cioè, se fa schifo, no, sentire, allora, una vaga idea ce l'ho è che a me piace, o a me piace, lo facciamo per tutti e quattro i lati, giusto per, così, proprio a bestia. Un altro e un altro così. Ah, ah, qui, guardate, avevo messo delle scale qua, non me ne ero accorto. Vabbè, questo è tutto il modo per salire, vi faccio vedere anche come si vede da sopra, eh. Hop, 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 poi ce ne va, servono due qua, una, due, e una, due, tre. Ok, perfetto, questo è quanto, questa sarà la nostra torre, molto, molto carina, va ridata un po' sopra perché è molto spoglia, però, secondo me fa la sua figura. Andiamo a vedere da lontano, hop, giù. Beh, la sua figura la fa, secondo me, fa la sua figura, secondo me. Sì, 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 se mi piace. Sì che mi piace, sì che mi piace, sì che mi piace. Magari ho fatto troppo oltre la cupola, ma, eh, no, non credo, dai. Per me è figo, appena saranno tutte e quattro pronte, tutte e tre pronte, la quarta non ce la mettiamo di là, forse. Oppure allarghiamo l'isola e ci mettiamo anche la, non lo so. Dunque, penso che per questo video possa essere tutto. Abbiamo iniziato ad arredare un po' la nostra isola facendo qualche improvement interessante e ho, diciamo, pensato a qualche sistema di difesa carino, carino, carino da poi sfruttare tramite queste torri. Vi farò vedere, ovviamente, tutto, ma quando avremo più materiali e più disponibilità, perché adesso mi rimane impossibile. Comunque, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, se il video è piaciuto, di iscrivervi al canale se avete già fatto, di condividere il video su Facebook, di farmi uscire le persone e noi siamo, come al solito, a un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!